ciao benvenuti nella fabbrica di sci tech un attimo questo è il nostro magazzino è qui che arrivano le proteine in polvere che sono la materia prima dei nostri prodotti lui è adam il re dei carrelli elevatori è capace di sollevare qualsiasi cosa ma torniamo alle proteine le nostre proteine arrivano dall'olanda e provengono davvero latte vaccino hai visto l'etichetta 100 per cento di proteine dal siero del latte fantastico ma noi vogliamo andare sul sicuro per questo prendiamo un campione per ogni fornitura e lo facciamo esaminare ecco fatto ed è già in viaggio verso il laboratorio andiamo matti per queste cose misuriamo tutto il contenuto proteico le sostanze attive l'inquinamento da metalli pesanti gli allergeni il livello di migrazione la stabilità le sostanze dopanti eccetera eccetera in altre parole controlliamo tutto qualsiasi cosa dalle materie prime fino al prodotto finito se i controlli non avvengono qui vengono svolti nel laboratorio indipendente vesling quindi non c'è nessuna domanda a cui non sappiamo rispondere adesso siamo al livello della miscelatura questa assomiglia ad una fabbrica di medicinari controlliamo tutto più volte in modo da essere sicuri che nel prodotto finiscano solo gli ingredienti desiderati se c'è qualche problema ed un ingrediente non soddisfa gli standard obbligatori il nostro sistema di gestione della produzione collegato anche alle bilance blocca il procedimento e adesso è il momento di mescolare bene il tutto questi sono thomas e bella sono loro che svolgono questo compito nel frattempo vi rivelo la ricetta della nostra polvere proteica preferita tutto questo è top secret tenetelo per voi dobbiamo prendere un campione per ogni prodotto per le analisi come ho già detto andiamo matti per le analisi cioccolato bianco alla fragola una consistenza leggera liquida con un intenso profumo di cioccolato bianco un aroma vellutato di fragola ed un retrogusto di cioccolato bianco se qualcosa non è perfetto lo buttiamo via questa è la catena di montaggio qui ci sono le presse le macchine per il riempimento di capsule per la selezione il dosaggio e l'imballaggio del prodotto e adesso vi faccio vedere qualcosa di veramente particolare qui produciamo i prodotti senza glutine e senza lattosio non male vero già l'allergia non va presa sotto gamba guardiamo un po da vicino con del jazz arrivano le nostre proteine siamo quasi pronti ma solo quasi perché anche qui come al termine di ogni fase di produzione è il momento dell'analisi su ogni scatola è riportata una serie di numeri che indica a quale lotto di prodotti appartiene il barattolo se inserisci il numero di serie sul motore di ricerca del nostro sito web potrai leggere tutto quello che si può sapere sul prodotto che si trova nella scatola e non è finita qui ogni barattolo ha un numero identificativo proprio se scannerizzato si legge il nome delle persone che hanno partecipato alla produzione di questa o di qualsiasi altra scatola da noi le cose funzionano così noi produciamo i nostri prodotti in questo modo è troppo complicato per noi la sicurezza è la cosa più importante vogliamo che quello che compri da noi sia veramente quello che riaffermiamo che sia